Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica e se state pensando di comprare un 35 per la vostra mirrorless ma non sapete quale scegliere, oggi faremo una comparazione tecnica tra quelli che secondo me sono i migliori attualmente sul mercato. Piccolo aggiornamento, quando ho registrato questo video ho paragonato quelli che secondo me in quel momento erano i migliori 35 per Sony sul mercato, il Sigma 1.4 e il 35 Sony 1.8 che ho avuto la possibilità di provare grazie a RCE Photo, il più grande mercato di usato fotografico garantito d'Italia. Ma da febbraio si aggiunge un altro concorrente alla lista, tra pochi giorni infatti uscirà il nuovissimo 35 1.4 GM e non potevo non parlarne perché le sue caratteristiche sono veramente eccezionali. L'unico difetto che sembra avere questo obiettivo è il prezzo 1700 euro per il nuovo 35 1.4 di Sony. Quindi se ritenete che non sia la vostra portata, tra pochi minuti passeremo al video originale dove vi parlo invece delle due alternative più economiche ma sicuramente ancora molto valide. Vediamo un attimo quindi i punti di forza che sembra avere questa nuova lente. Il 35 1.4 GM pesa 524 grammi, 300 grammi in più del 35 1.8, ma meno di Sigma e Zeiss comunque, è tropicalizzato, ovviamente ha i tasti per la scelta del manual dell'autofocus e il focus hold button, come ogni lente GM d'altronde. La ghiera della messa a fuoco permette di avere una messa a fuoco ripetibile con i suoi 160 gradi di rotazione. Il 35 1.4 è praticamente una lente perfetta, l'autofocus è eccellente, veloce e silenzioso, infatti monta il migliore sistema di autofocus con motore lineare che Sony offre al momento. Comunque, per quanto riguarda l'autofocus, dobbiamo dire che il Sony 1.8 ha una performance pari a quella dell'1.4. Il Sony 1.4 ha una distanza minima di messa a fuoco di 0,27, quasi come il 35 1.8 che invece ha una distanza minima di 0,22. Ha molte meno aberrazioni rispetto a tutti gli altri 35, il bokeh è molto bello e le immagini sono ben nitide e definite, anche più del 35 1.8 che invece nonostante sia 1.8 appunto sembra comunque leggermente più luminoso. Non ho citato per niente il 35 Zeiss, ma sono sicura che qualcuno si starà chiedendo cosa ne penso. Il Sony vince su tutti i fronti su questa lente che ormai rimane una lente datata. Brevemente rispetto al 35 Zeiss, il Sony ha più definizione, più contrasto, minori aberrazioni, miglior controllo del flare, miglior bokeh, tanto per fare un esempio, quello di Zeiss è tutto rigato, il miglior autofocus, i colori sono più vibranti, più saturi, più ricchi, più accurati. Il Sony GM produce immagini migliori in qualsiasi test si faccia, la distanza minima di messa a fuoco è migliore, con il Sony infatti si può entrare molto più dentro rispetto allo Zeiss. Insomma, il 35 1.4 GM è otticamente superiore a tutti i 35 per Sony. È una lente come abbiamo detto perfetta, che ricordo sarà disponibile da febbraio in Italia e avrà un costo di circa 1.700 euro. Ora vi lascio al resto del video, dove invece andremo a comparare altre due ottiche comunque molto valide, il 35 Sony 1.8 e il Sigma 1.4, dal prezzo anche più contenuto. Ma prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video, escono ogni domenica alle 12 in punto. Quando acquistai il 35 1.4 di Sigma, lo feci perché era la migliore scelta per rapporto qualità prezzo, ma parliamo comunque di un obiettivo di un certo calibro, ben 665 grammi di peso. Poi l'anno scorso è uscito il 35 1.8 di Sony, che è decisamente più leggero, infatti è solo 318 grammi. La iera di messa a fuoco è di metallo, ed è molto fluida. La lente ha un diametro di 55 mm, che è sicuramente meno comune dei soliti 67 mm, quindi potrebbero servire eventuali adattatori per i filtri. È tropicalizzato, e infatti ha 6 punti che lo proteggono da eventuali gocce d'acqua o granelli di polvere, mentre il Sigma ha solo una protezione della polvere sulla maionetta. Abbiamo i controlli per cambiare da autofocus a focus manuale direttamente sulla lente e il tasto funzioni personalizzabile tipico delle lenti Sony serie G. La iera di messa a fuoco del Sigma purtroppo non permette di avere una messa a fuoco ripetibile, inoltre la sua corsa si ferma a circa 90 gradi di distanza tra il punto infinito e la minima distanza, e non è molto comodo soprattutto per chi usa il fuoco manuale nei video. Il Sigma ha una distanza minima di messa a fuoco di 0,35, mentre con il Sony possiamo avvicinarci ancora di più, perché ha una distanza minima di messa a fuoco di 0,22. La iera è completamente lineare e fluida nella sua risposta e mi piace molto che sia possibile girarla a 360 gradi, in quanto a nitidezza le due lenti sono piuttosto simili. Il Sigma 1,4 si comporta leggermente meglio e sembra più nitido. Per il Sony 1,8 abbiamo qualche zona ai bordi più morbida ma guardate quanto abbiamo dovuto ingrandire per notarlo e lo ritengo veramente irrilevante. Mentre per quanto riguarda i profili corretti che andiamo ad applicare alle lenti, per il Sony 1,8 vedete che se attivo la correzione non c'è quasi nessun cambiamento per quanto riguarda la distorsione, mentre la vignettatura è piuttosto presente, ma è molto impressionante il controllo della distorsione. Per il Sigma 1,4 viene corretta qualche distorsione ma sicuramente abbiamo meno correzione della vignetta. Il bouquet è molto bello in tutte e due le lenti e la differenza sta soltanto nella dimensione dei cerchi. Se vi trovate a scattare spesso in situazioni che richiedono alti ISO ovviamente i due terzi di stop potrebbero fare la differenza. Per esempio, se usiamo un'apertura a 1,4 e scattiamo a ISO 6.4, salendo a 1,8 l'ISO sale a 10.000 per ottenere la stessa esposizione e questo aumenterebbe sicuramente il rumore nelle vostre immagini. Per il Sigma 1,4 è disponibile un upgrade per migliorare l'autofocus, perché prima questo 35 sembrava cambiasse focus a scatti come vedete da questa clip, mentre dopo l'upgrade è stata corretta questa cosa ed ora la transizione è molto più fluida. Il Sony 1,8 comunque rimane molto fluido già appena tirato fuori dalla scatola ed è senza ombra di dubbio il migliore, non perde mai il focus, è velocissimo e molto fluido e silenzioso. Anche in scarsa luce, nonostante il diaframma più chiuso, il Sony aggancia prima il focus rispetto al Sigma. Per quanto riguarda la face detection si comportano tutti e due molto bene e non hanno problemi a seguire il soggetto, ma se per voi è importante avere una transizione perfettamente fluida da un soggetto all'altro, il Sony 1,8 è decisamente la scelta più giusta. Ultima cosa da sottolineare è in che entrambi non hanno lo stabilizzatore d'immagine, ma se volete sapere perché secondo me il 35 1,8 di Sony è perfetto per chi fa video, vi lascio le mie prime impressioni tra i link consigliati in alto a destra e in descrizione. Su Amazon il Sigma Art 35 1,4 sta sui 670 euro, mentre il Sony 35 1,8 sui 600, quindi per una differenza di 70 euro nel prezzo finale, e il prezzo secondo me non è così incisivo per capire quale obiettivo preferire. Quindi ora la domanda più importante, quale lente consiglio e perché? Consiglio il 35 1,4 per chi vuole una lente che sia un buon compromesso sia per foto che per video, offre una qualità d'immagine leggermente maggiore del Sony, ma soprattutto due terzi di luce in più, e decisamente ha una resa migliore per scattare fotografie. Ma quando penso a cosa ottiene in cambio dal Sony 1,8 rinunciando alla luce extra della maggiore apertura del Sigma, abbiamo un obiettivo tropicalizzato che insieme alle sue dimensioni compatte lo rende una lente molto versatile. Si elimina del tutto il focus breathing, quell'effetto che fa l'obiettivo muovendosi avanti e indietro a scatti quando cerca il focus. Si ha una ghiera di messa a fuoco molto più lunga e fluida, utilissima per focheggiare in manuale con Sony e una distanza minima più ristretta di messa a fuoco. E poi il nuovo motore di messa a fuoco che lavora magnificamente per transizioni di autofocus in video. E non è questo uno dei maggiori motivi per cui si sceglie Sony per filmare? Bene, questa era la mia analisi dopo aver avuto sotto mano le due lenti ed averle studiate per un po'. Spero che questo video vi sia stato utile per la vostra scelta, se l'è stato mettetemi un like e scrivetevi nei commenti le vostre opinioni su queste due lenti, se le avete o pensate di acquistarle. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!